Nella definizione di questo accordo il nostro ente ha partecipato alla fase preliminare della progettazione che è stata chiaramente consegnata al soggetto attuatore che è la concessionaria autostradale della Torino-Savona. In questo caso appunto la città metropolitana partecipando a questo protocollo d'intesa permetterà l'utilizzo del lavoro già svolto e poi in seguito a lavori conclusi diventerà il gestore della rete nuova.